Dopo i continui crolli dal costone roccioso della rupe di Agropoli, il Comune corre ai ripari e sigla una convenzione con l'Università Federico II di Napoli. La partnership con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse mira ad analizzare le condizioni di stabilità dei versanti costieri del territorio agropolese al fine di prevenire i crolli, stabilizzare i versanti costieri ma soprattutto censire i fenomeni franosi e le condizioni di pericolosità. Le indagini geologiche porteranno così alla realizzazione di un progetto definitivo che possa finalmente acquietare gli animi dei residenti preoccupati dalle condizioni della rupe su cui si erge il centro storico di Agropoli, soggetto da diversi anni a continui fenomeni franosi a causa dell'erosione degli agenti atmosferici. L'ultimo, quello della scorsa primavera, dopo il quale è stata interdetta la discesa a mare in località Fortino. L'accordo con l'amministrazione, guidata da Roberto Mutalipassi, sarà dunque necessario per capire come agire a difesa e tutela di tutto il territorio comunale. Inoltre, il Comune di Agropoli ha avviato una seconda partnership con il Consorzio Interuniversitario per la Prevenzione e Previsione Grandi Rischi presso l'Università degli Studi di Salerno. L'obiettivo è quello di avere un quadro completo della situazione geomorfologica, idraulica e malittima della città, messa in ginocchio dall'alluvione dello scorso novembre.